Musica Quante volte vi siete accorti che la vostra imbarcazione è ricoperta da ogni genere di tipologie di sporco? Quale fumi di gas di scarico dei vostri motori, guano d'uccelli, salsè di nessicata, smog Per una pulizia perfetta e una brillantezza assoluta della vostra imbarcazione, Mafra ha sviluppato Dolphy Un detergente attivo con all'interno Polar Light, un composto brevettato da Mafra per una lucentezza perfetta della vostra imbarcazione E' di facile utilizzo, basta nebulizzare il prodotto sulla parte da trattare, passare con una spugna o con uno spazzolone e provvedere all'isciacquo Musica Musica